Io rispetto a te invece guardo molto Twitch, mi piace e mi piace anche rubare magari se ci sono delle abilità che non mi competono mi piace imitare Grazie Cronox per il decimo mese Mi potete mordere il p***e No, io almeno Ti piace imitare? Alla fine le attore che cose sono queste? Stavo dicendo che gli streamer che guardo vedo che sorridono sempre meno e che ne sono rimasti pochi tipo come noi che lo fanno per divertirsi oltre che per lavorare Mi hai fatto il dito medio Quando? Sì, come ai vecchi tempi Mi hai fatto il dito medio No bro, io ora sto nella casa nuova Eh, l'ho capito che questa casa nuova è un pochino purifica qualsiasi cosa, qualsiasi peccato però dico mi hai fatto il dito medio Mi fate sta clip? L'ho amato Ti ho fatto così Mentre faceva l'abbonamento Cronox timer Sì, pensando di non essere visto Eh, ti ho visto No, 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 no bro Non me la fai questa Tu me l'hai fatto due volte La prima perché hai visto che non ho visto perché volevi che io con la coda dell'occhio lo vedessi Come il dito medio quando te ne vai Questa è l'unica verità che ti darò oggi Mario Eh, io volevo non essere visto Ma... È una verità vera questa? È una vera verità Io pensavo che ti avresti girato un po' più tardi Ti capita qualche volta di voler mentire dicendo È una vera verità? Cioè, mentiresti mai Dicendo È una vera verità? No No No, direi altre cose Tipo Hamburger Te lo giuro Tipo Marco ma sei serio? Sì, hamburger Non lo diresti mai? Te lo giuro invece? No, ma perché sono robe che secondo me ti attivano molto la faccia di merda Te lo giuro Tipo te lo giuro Sì Sì, sì, sì Io sollevo il labbro quando mento Lo sai? Questo qua Il labbro destro Io tippo tappo Lippo campo volevi dire, no? Ippo tappo non esiste Io tippo tappo Adesso cerco tippo tappo Allora cerco tippo tappo Tipo tappare E vediamo Tipo tappare Quando mento Sto cercando su Wikipedia Spostati un attimo che cerco tippo tappare E se non esititi ho un pugno in fronte Ma perché? Tipo tappare Vediamo un po' Ah Non c'è alcun risultato Tipo tappare Non esiste È assurdo Porca madonna Ma cos'è assurdo? È la parola più strana che abbia mai sentito È soltanto musicale Ma cosa vorrebbe mai dire? Tipo tappare Fare tippo Tipo tappare Fare tip tap No Quella è tip tappare Casa madre Tipo tappare Tipo tappare no Tipo Quella O Fa proprio fastidio Tipo tappare No l'ha scritto giusto L'ha scritto giusto Sì Tipo tappare Come l'hai scritto Come l'hai detto tu Ieri ho tipo tappato Mentre mangiavo Dai diamo una definizione A sta minchiata Io quando mento Tipo tappo Balli tip tap Quando menti tu Per dirlo in maniera sintetica Visto che il tempo oggi È la cosa più pezzosa Abbiamo Tipo tappo Abbiamo passato Un sacco di tempo insieme In questo anno Non ti ho mai visto Ballare tip tap Probabilmente Dico sempre la verità È proprio questo Che secondo me Non è così E quindi Mi da certezza Che non ti potappi Quando menti Porco dio A volte A volte Me lo tengo dentro Poi va a distanza E faccio Eccomi 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 Ok Ok Quando metti la musica In stanza Bravo Sfoghi Bello questo bravo Ciao Marione Come sta? Ieri stavo tipo tappando Questo sospendete l'operazione No ma perché? Scusa grabbi Che ti ho chiamato questo No no È giusto che tu sia unito Un fello tipo tappo Più che No bro Stai zitto Più che altro È il lavoro Se trovo un lavoro Tavornello Tipo tapper Minchia cappone In casa Ragazzi Il gruppo telegram Dei tipo tappers Verrà aperto Fino a mese Non c'è nessun comando Tip tap Che puzza di scroto Mario Non Puzza il mio scroto Tra l'altro Non hai detto mai Che puzza di scroto In questi giorni Dove siamo stati da soli Arrivati Tu hai sempre Quest'idea Che Daniele Facciamo comunella È perché è vero E comunque Oh ragazzi Tutto ok Ehi la Ho sentito Che ti sei lamentato Di puzza di scroto Però era chiaro Che volevi Che lo sentissimo Giusto? No Stavo passando Ho sentito d'ora di scroto Può succedere Eh Quante volte l'hai detto In questa settimana Che c'era puzza di scroto? Ma detto Non lo dico spesso Più che altro Lo penso a volte Lo pensi che puzza di scroto? Succede ogni tanto Che sento odore proprio di Palle Palle Mi fai Mi fai un piacere Urina C'è anche un po' di urina Turkish Airlines Turkish Airlines Mi fai un favore Quando senti la prossima volta Puzza di scroto Dimmelo Perché è un po' strano Che lo dici Pro Ti ho visto per il dito medio Ma dove? Oh 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 Tenta per il mio amico Mario Non l'ho toccato L'ho minacciato L'ho minacciato La minaccia è diversa dall'aggressione Che fai che indietreggi in questa maniera? Ti pare Ti pare Che adesso Oh 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 No Marco Se hai bisogno Non la sto Accredendo fisicamente Ma poi mi mette lei Contro un bisonte Di queste proporzioni Fisicamente Mario Proverei a spararti Non ad affrontarlo fisicamente Mario Madonna che brutto tracollo Ma che tracollo? Che c'è? Contro un l'arte Io dico solamente questo Mario Che per quanto tu possa minacciare Ed essere il classico mafioso siciliano Sono il classico mafioso siciliano Io ti voglio bene Che be Bro mi fai Mi fai comune Sei un grande esempio Ha tiptappato Ha tiptappato Stavo mentendo Che vuol dire? Il cavaliere del lavoro Che l'abbraccio Si non ti ho mai visto Abbracciare Marco Merrino In questa maniera Ma smettetela Questo è il corso Avanti a te Strom Mamma mia Ha tiptappato Quindi stava mentendo No lo sto a mettere Ha tiptappato di nuovo Lo sai Lo vedi che tiptappa Non ti ho mai visto tiptappare Comunque Vabbè Sta tiptappando Si sta tiptappando Sta top tappando Tiptappando Vabbè Comunque Mario Ok Un piccolo Un piccolo Step down Ok Rispetto a che cosa? Eh Sei aggressivo Cattivo Ti senti proprio la possibilità A parte che aggressività E cattiveria Sono cose diverse Lo sento Lo sento Lo sento Lo sento anche tu Ma che cosa hai sentito? Una puzza di scrotolo Hai sentito odore di scrotolo Ma vedi che vi prendo a stiappi A tutti e due Fate attenzione Fate attenzione Mi sento aggredito Fate attenzione Non è un puzza di scrotolo La mia camera Ti chiudo Un salutone ragazzi Ciao ragazzi Ci vediamo in live da me E c'ho anche Mario Ti rispetto bro Hai top tappato eh Hai top tappato Ho tiptappato Ti chiudo qua Io ti voglio bene Grazie per la live Sì chiudimi la tenda Mi hai fatto il dito medio Beh Vedo che non cambierà mai Tutto questo E in un certo senso Mi fa piacere Mi hai fatto il dito Grazie per la live Mi hai fatto il dito Di Grazie a tutti. Grazie.